Oggi vi portiamo a visitare un appartamento a Tarzo del 1993. L'appartamento si trova al primo piano di una palazzina con soli tre appartamenti. Entrando troviamo una bella zona giorno con la cucina separata. Ed un bel terrazzino con vista sulle colline circostanti. La zona è molto tranquilla ma vicina al centro e a tutti i servizi. Entrando in zona notte troviamo il bagno. Una prima camera singola ma con due letti. E una grande camera matrimoniale. Anch'essa dotata di terrazzino. L'appartamento è termo autonomo. E con spese condominali molto contenute. Siamo più o meno sui 100 euro annuli. E dispone anche di un garage singolo di buona dimensione. Per qualsiasi delucidazione. o per una visita contattate pure l'agenzia. A presto. A presto. A presto.